Luca Orlando, bentrovato all'area che ti restate, sindaco di Palermo al suo quinto mandato, ancorché non consecutivo. Stefano Zurlo parla di questa parola magica, manutenzione, a cui piace tanto ai politici riempirsi la bocca che però non paghi in termini elettorali. E mi sento di dire, la manutenzione vale tanto per quel che riguarda le nostre infrastrutture viari, autostradali, ma anche quando riguarda il nostro territorio. Tutte le volte che ci sono delle tragedie rispetto al dissesto idrogeologico, piangiamo le frane, piangiamo le alluvioni, però poi quando si tratta di mettere dei soldi non si mettono mai e gli episodi continuano a succedere. Potrei limitarmi a dire che sono totalmente d'accordo con la cosa detta da Zurlo, cioè assolutamente d'accordo e richiamare, se possibile, la circostanza che negli anni 90 l'Italia era piena di convegni, dibattiti, interventi legislativi che avevano a cuora la manutenzione delle città. E' una parola scomparsa. La parola manutenzione è scomparsa, per cui c'è il rischio che si fanno le grandi opere senza attenzione al come, e lì c'è la corruzione, gli intrallazzi, e senza attenzione al come vengono gestite e il tema della manutenzione. Se posso dire una cosa è il rischio che non si fa nell'uno e nell'altro in questo Paese. Esattamente, peggiore del male, grave quanto il male, non peggiore, non peggiore. Io credo che il tema vero è che questo nostro Paese deve cominciare ad affrontare il dibattito non sul cosa fare, ma sul come farlo, perché il vero problema di oggi è che c'è uno sconto continuo per tweet e slogan, senza un ragionamento, senza una prospettiva di tempo, sul sì o no. E non funziona. In un Paese complesso non esiste nel sì e nel no, tranne sulle rinunciabili questioni che riguardano i diritti fondamentali.